Sto cercando una ladruncola dal magro intelletto, dai capelli, diciamo giallini, si chiama Alice. E quali affari avete con lei? La ragazza ha rubato qualcosa a me. Ah, non vi dirò di cosa si tratta, non è importante una bazzecola. Non capisco perché vi stiate scaldando tanto, davvero. È una sciocchezza, io devo riprenderla, ma non che mi interessi. Quanto prima, possibile, in ogni caso, comunque finisca, mi sta bene. Dovete darmela, chissà che fine ha fatto. Beh, siete fortunato allora, caro, il mio tempestivo, perché proprio quest'oggi ho invitato Alice per un tè. Grazie. 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 Grazie.